Nel maggio scorso i carabinieri di Fanno avevano intercettato e denunciato una donna di 44 anni che dopo aver carpito la buona fede di una persona anziana, prima gli aveva chiesto un passaggio, poi lo ha seduto e infine gli ha sfilato l'orologio in oro. Questa volta cambia la location ma la sceneggiata è identica. Il luogo scelto però è stato Piaggio, un piccolo comune dell'entroterra fanese. Qui un uomo di 64 anni ben portati, alto e robusto, era intento nei lavori di ristrutturazione di una seconda casa quando è stato avvicinato da lei prosperosa e avvenente. Lo ha raggiunto, si è finta in difficoltà e ha richiesto un'indicazione, poi quando l'uomo gli si è avvicinato lo ha abbracciato e gli ha chiesto sussurrando all'oricchio di fare l'amore. La vicenda ha destabilizzato l'uomo che dopo un momentaneo smarrimento si è ripreso e si è allontanato. Ritornato a casa ha raccontato la vicenda alla moglie ed è stata proprio lei ad accorgersi del fatto che la vistosa catena in oro che il marito porta sempre al collo non c'era più. Capito finalmente l'obiettivo dello strano approccio si è rivolto alla stazione dei carabinieri di San Giorgio di Pesaro per denunciare l'accaduto. Qui i militari gli hanno mostrato un fascicolo fotografico. Il 64enne, senza ombra di dubbio, ha riconosciuto la stessa donna che si era resa protagonista di un fatto analogo a Fano. Una volta rintracciata della catena non c'era più traccia, ma nei confronti della 44enne nata a Bressanone, residente a Venezia, di fatto senza fissa dimora e pluri pregiudicata per reati analoghi, è scattata l'ennesima denuncia per furto con destrezza. Temendo altri fatti simili, la procura della Repubblica di Pesaro ha autorizzato la pubblicazione della sua foto. Eventuali riconoscimenti potranno essere segnalati in qualsiasi caserma dei carabinieri.